buongiorno ragazzi oggi raccontiamo la storia degli etruschi i quali diedero vita nell'italia del primo millennio avanti cristo ad una civiltà particolarmente evoluta che influenzò profondamente i romani gli etruschi occuparono un territorio l'etruria che si estendeva dall'attuale toscana all'alto lazio comprendendo in seguito parte dell'emilia e la bassa lombardia si trattava di terre fertili con boschi per il legname e miniere di ferro rame zinco e stagno come vivevano gli etruschi praticavano l'allevamento di suini ovini e bovini e di buoi venivano impiegati come animali da lavoro nell'immagine potete vedere infatti un piccolo gruppo bronzeo con un aratore cioè un contadino che pratica la ratura ed una coppia di buoi i raccolti abbondanti che ottenevano spingevano al commercio che generava contatti con altre civiltà i contatti con la civiltà greca portarono molti benefici all'agricoltura come la tecnica della rotazione delle colture che consiste nel far variare il tipo di prodotto agricolo coltivato nello stesso appezzamento per renderlo più produttivo la coltivazione della vite da parte degli etruschi ebbe grande diffusione e produsse vini esportati in tutto il mediterraneo così come la coltivazione dell'ulivo per l'olio e come facevano a produrre così tante cose grazie al territorio che era molto fertile ma anche grazie all'intervento dell'uomo gli etruschi realizzarono infatti grandi opere di ingegneria civile come acquedotti scavati nella roccia deviazioni del corso di fiumi bonifiche di grandi tratti di territori costieri paludosi una fitta rete di canalizzazioni per l'irrigazione quindi erano molto evoluti sì gli etruschi furono abili architetti e costruttori ad esempio introdussero l'arco nelle costruzioni furono infatti i primi ad utilizzare la tecnica dell'arco a volta poi imitata dai romani a volta cosa vuol dire eccone un esempio la chiave di volta è la pietra più importante posta al vertice di un arco o di una volta chiude con la sua forma a cuneo la serie degli altri elementi costruttivi disposti uno a fianco dell'altro e quindi scarica il peso sostenuto dall'arco sui pilastri laterali in senso figurato se l'avete sentito dire la chiave di volta rappresenta l'elemento centrale o l'elemento portante di qualcosa qualcosa che se viene rimosso crolla tutto forte gli etruschi erano anche raffinati ceramisti e un prodotto artigianale per il quale erano molto famosi è il bucchero cioè un tipo di ceramica nera e lucida la sua caratteristica più evidente è la colorazione completamente nera che veniva ottenuta mediante una cottura particolare gli etruschi usavano molti recipienti e suppellettili di questa fattura le occasioni non mancavano il banchetto ad esempio era al centro della loro vita quotidiana il convivio aristocratico allestito due volte al giorno era il luogo dove coltivare le relazioni e gli affetti risolvere i conflitti politici e celebrare matrimoni con cibo e vino si onoravano i morti e si consacravano i templi e i bambini come noi cosa facevano l'infanzia nella civiltà etrusca non durava molto i bambini all'età di sette anni erano già considerati abbastanza grandi per contribuire ai lavori dei campi o delle botteghe di famiglia ma questo non significa che non potessero concedersi anche momenti di spensieratezza e di gioco i maschietti giocavano con trottole io io o con le noci cioè con tutti quei giochi che la fantasia rende magici anche se composti da semplici bastoni spaghi e materiali di recupero nell'immagine potete vedere una trottola di epoca etrusca in ceramica pensate era dotata all'interno di piccoli sassi tali da generare dei suoni durante la rotazione le bambine giocavano con la loro bambola di terracotta fino alla pubertà quando la regalavano al tempio per sancire il passaggio all'età dei grandi e prepararsi al futuro matrimonio agli etruschi in genere piaceva giocare e nei giochi da cortile come il tiro alla fune testa o croce il tiro al bersaglio mosca cieca potevano giocare adulti e bambini insieme senza distinzioni di sorta i giochi degli adulti potevano essere anche quelli d'azzardo i dadi per esempio e per oggi è tutto la prossima volta parleremo dell'organizzazione sociale dell'arte e della religione degli etruschi a presto ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti